ciao ciao a tutti ciao gente vorremmo essere in live vediamo se posso tirarmi un po questo cavo per parlare direttamente nel mic dentro il mic che dire sto facendo live questa live nuova con questo nuovo esperimento anche visivo spero di avere sistemato quelli che erano i problemi che avevo avuto in precedenza anzi diciamo che questo è una live test proprio per cercare di capire se sono riuscito a risolvere queste problematiche dove in pratica purtroppo con questa nuova console che ha delle delle uscite molto semplici ho avuto il problema che si sentiva con l'incuffia e l'ho sentito l'ho capito soltanto dopo molto tempo che dire niente ora magari vediamo quando è che arriva qualcuno domani probabilmente ci sarà qualche partita con warlock o comunque sicuramente nel fine settimana faremo qualche partita spero prima di poter giocare anche insieme a tifa e ad altri ai giochi cooperativi vedo che è arrivata adesso la notifica progressi friday night ecco qua strana e strana forte che c'ho sotto si può fare vedere si può fare vedere che ho sotto un capezzo va bene e direi di iniziare vediamo poi se arriva qualcuno facciamo pure anche un po di pausa tanto non ce la facciamo a cazzeggio non ce la facciamo a cazzeggiare Grazie a tutti. 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 la primavera. a tutti. 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 a tutti.